Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questo nuovo video tutorial per Yokai Watch Puni Puni Come da titolo vi insegnerò come fare tantissimi punti in alcuni eventi particolari Specialmente quello di questo periodo, quello che va dal 17 al 31 gennaio, vediamo insieme Prima di cominciare col video, due minuti di numero per le slottate che ho trovato uno Yokai tre volte nella stessa multi Le prime 5 multi nulla, poi la sesta, boom, arriva questo Yokai Z, ovviamente perché se no non sarei io Tre volte nella stessa multi È stata davvero una botta di fortuna e con l'ultima slottata poi ho trovato anche un rango tripla S Che non ho mai visto e non è neanche tanto forte L'abilità forse, forse l'Energy Max è passabile ma per il resto è uno Yokai che non ha tantissimi punti di forza Né in HP né in attacco quindi alla fine non credo lo userò Ma devo ammettere che il rango Z è abbastanza carino E è un booster di attacco e ti fa cascare più pezzi di Elder Watch che è l'orologio che va in voga al momento Comunque andiamo a vedere come parmare tantissimi punti In questo evento in particolare quando non c'è né Fionda né Punitto né qualche altra diavoleria Ti danno dei punti ogni volta che sconfiggi un livello A inizio evento vi faranno scegliere se combattere o meno con l'aiuto di Yakodori Yakodori sarebbe uccelladro e lo vediamo qui in basso in questa schermata Se noi ci clicchiamo ci fa cambiare selezione Quello che abbiamo scelto all'inizio possiamo cambiarlo ma una sola volta Se scegliamo di cambiare non possiamo più tornare indietro Ora con Yakodori ovvero la schermata rossa arancione Ci fa fare molti più punti ma gli avversari possono venire a rubare da noi uno strumento che abbiamo già preso Quando cerchiamo di completare i sigilli Se invece scegliamo la schermata verde eviteremo che gli avversari vengano a rubare Ma non potremo neanche andare a rubare noi e faremo meno punti E' lo scambio equivalente no? Ecco questi qui sono i sigilli per l'appunto Ogni volta che prendiamo in questo caso una pagina per sbloccare il sigillo C'è la possibilità che gli avversari vengano a rubarcela se abbiamo scelto Yakodori Mentre se non l'abbiamo scelto non possiamo né andare a rubare né i nemici possono venire da noi Se non vi interessa fare i sigilli scegliete Yakodori la schermata arancione Se invece vi interessano i sigilli e volete fare punti medi perché prendete la metà dei punti Allora scegliete la schermata verde Io per il momento voglio fare i sigilli quindi ho scelto la schermata verde Appena completo anche l'ultimo sigillo passo alla schermata arancione Ci vogliono in media 3-4 giorni per riuscire a completare l'ultimo sigillo Che è quello con il drop rate più basso e quindi sarà piuttosto difficile Ma il gioco farà per conto suo Ma come? Vediamo Dovrete scaricare se riuscite a trovarla sull'app store Autoclicker Semplicemente scrivendo autoclicker Se non lo trovate vuol dire che l'hanno rimosso un'altra volta Ho dovuto scaricarlo cercandolo sul Chrome del tablet Ho scritto autoclicker e il primo che mi ha saltato fuori mi è andato bene Il mio autoclicker è questo qui Clicker automatico Settarlo è davvero davvero facile Ve lo farò vedere Una volta aperta l'applicazione non ci resterà che toccare su inizia Passo alla versione pro ok Ci arriverà una pubblicità Questa applicazione ovviamente essendo gratis avrà delle pubblicità Non sempre avrà delle pubblicità Il che è buono Ora se avete anche una penna per toccare il touchscreen Direi che è il momento di usarla Perché sarà molto utile per posizionare i click automatici Una volta che avrà finito con la pubblicità tocchiamo inizia E andiamo nel gioco Io al momento sto farmando sul livello segreto numero 2 Che è quello che dà più punti Come vedete è comparso un 1 al centro dello schermo Ve lo faccio vedere meglio Eccolo qui Ora se noi tocchiamo più Qui sull'applicazione autoclicker Ci darà più segnalini Il numero massimo di segnalini per l'applicazione senza pagare è 40 Ho provato a comprarla ma non era più disponibile neanche nel loro sito ufficiale E quindi niente Come vedete il gioco sta laggando Ma è normale Il gioco laggerà di brutto Ogni qualvolta affronterete uno yokai Ma non c'è problema Una volta finita la sfida tornerà normale Come se nulla fosse accaduto A me lagga anche così Senza che l'autoclicker sia attivato Ma è per un problema Perché sto registrando anche con un'applicazione interna del tablet Che non ho scaricato Quindi non saprei neanche come farvela trovare nel caso voleste Una volta che avrete messo tutti e 40 i segnalini Potrete spostarli a vostro piacimento su tutta quanta la mappa di gioco Mentre spostate i segnalini potrebbe apparire questa schermata Toccate a nulla e non succederà nulla per l'appunto A questo punto mettete tutti quanti i segnalini dove volete E date il via alla sfida C'è ovviamente un modo corretto di mettere i segnalini È ovvio E qual è? Vi faccio vedere la configurazione che uso io Per questo evento in particolare Tocchiamo la rotellina E a questo punto ci chiederà salvare la posizione Salva come nuovo Oppure carica una delle posizioni Io scelgo di caricare la seconda Come vedete mi ha caricato una posizione Che avevo già salvato in precedenza Proprio prima di registrare questo video Quindi se volete potete anche copiare Copiare la mia disposizione Potete bloccare il video fare quello che vi pare E appunto copiare la mia La mia in questo momento funziona benissimo Quando prendo i sigilli Non mi va a toccare nessuna striscia Quando devo finire il livello mi preme ok da solo L'unico problema potrebbe essere Quando appunto il sigillo viene completato E devo premere ok Può essere che l'ho messo troppo in basso E non me lo tocca Oppure prima ce l'avevo troppo in alto E mi si è fermato per 4 ore Mentre stavo dormendo per l'appunto E quindi non ho potuto fare niente Per spostarlo E non ho farmato un bene amato niente Stavolta tutti i click sono perfetti E facciamo un giro di prova allora Facciamo questa prova Ripeto se avete un appennino Potrete posizionare meglio i segnalini Se non avete un pennino E volete fare a mano libera Tranquilli Basterà solo essere un pochino più precisi Facciamo però un giro di prova Altrimenti non serve a nulla no? Via Partirà da solo Non tocchiamo Io Come vedete le mie belle manine sono qui Perfettamente Potrebbe metterci qualche secondo a entrare Perché con tutti i click posizionati Tocca anche l'immagine dello yokai E i suoi contorni Quindi potrebbe toccare lo yokai più volte Ma alla fine non vi preoccupate Perché entra sicuro Ci può stare 5 secondi Anche 10 male che vada Non è un problema La squadra che sto usando ora Non è assolutamente per farmare Infatti Cioè per farmare i punti Con autoclicker Sì ma non per farmare Le monete Le monete vi serviranno Per comprare gli spiriti Perché se voi lasciate il tablet Per 12 ore Perché dopo 12 ore Il gioco esce da solo in automatico Quindi state molto attenti Una volta che stanno per scadere le 12 ore Uscite e poi rientrate Aspettate 10 minuti Un quarto d'ora E poi rientrate Quindi Vi serviranno le monete Per comprare gli spiriti Perché voi Se lasciate il tablet Appunto per 12 ore Farmerà di continuo E consumerà Gli spiriti Io ad esempio Ho messo anche un segnalino Sull'Energymax Di Shogunyan In modo da poter fare Un grandissimo danno E fare Pochi punti Effettivamente Farmo intorno alle 150 E 187 monete Che non sono poi tante Però Insomma Alla fine Alla fine della fiera Non è proprio malvagio Potrei anche mettere Due Energimax Ma siccome sto ancora facendo I sigilli Non posso farlo Devo aspettare Di completare i sigilli Poi posso anche Mettere due Energimax Come ho fatto La scorsa volta E quindi Avere un sacco Di punti in più La scorsa volta Farmavo anche 1000 monete A ogni sfida Il che è Tantissimo Se doveste Toccare lo schermo E non dovessero Andarvi più I clicker Per qualche motivo Toccate lo schermo Se non vi vanno più Vediamo un po' Se ora è successo No Comunque sia Se toccate lo schermo Potrebbe Succedere Che i click Non funzionino più Vi basterà Semplicemente Ritoccare lo schermo In una parte vuota Dove non ci sono i click E ripartirà In automatico Può succedere Una volta su 10 Da quello che ho testato io Però Se non ci sono problemi E vada solo La prima volta Lo posate Andrà da solo Anche le altre Più o meno Non so quanto ci mette Per fare la sfida Voglio cronometrarlo Può capitare Che con questa posizione Dei click Vada anche A posizionare Al 100% In modo che non vada A toccare il sigillo Ma non importa Ultimissimo appunto Se avete scelto Yakodori Quindi Andare a rubare Posizionate I click In modo che non vadano A toccare La barra gialla Con scritto Ruba Quella che compare Nei cerchi dei sigilli C'è scritto Vai a rubare Metteteli in modo Che non tocchino Quella Altrimenti Creerete un casino E non ne uscirete più Ve lo dico io Che è successo Ho fatto una prova E non se ne esce più Da lì Quindi alla fine Che cosa dovete fare voi Posizionare solamente I click Nella maniera migliore E lasciare fare Il resto al gioco Perdeteci il tempo Di qualche battaglia Almeno 5 6 7 Anche 10 Per vedere Se tutto va bene Se magari va nell'attacco Al punteggio Deve uscire da solo Se va sui sigilli Deve uscire da solo Anche da lì E ricominciare la lotta Ad esempio adesso Guardate qui Vedete Esce da solo Boom E arriva nella lotta Così deve accadere Anche a voi Ok Bene ragazzi Questo era quello Che c'era da dire Per questo evento Per farmare Tantissimi punti Ogni 12 ore Mi raccomando Spegnete L'applicazione Uscite per 10 minuti Un quarto d'ora E poi rientrate Vi lascio Ora a fine video La schermata Su come posizionare Tutti quanti I segnalini O click Che dir si voglia Io ragazzi Come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Il video In descrizione Il link Per Instagram E a Yokai Watch Spagna Che spiega Come completare Tutti quanti Gli stage segreti Quali boss Fanno più danni Quali Quelli più importanti Che fanno cadere Anche più punti Yokai Uno è Jibanyan Che si trova Nei sigilli E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye Eeeh Eeeh